Abbiamo tutti assodato che la creatività sia un elemento, una chiave di lettura possibile nella soluzione della complessità. Se così è, dovremmo anche invertire un po' la tendenza. No, noi siamo nelle organizzazioni portate a promuovere, quando si parla di progettualità, di promuovere i contenutori e meno i contenuti. In realtà quando si gestisce la complessità, mi faceva proprio effetto quello che diceva Francesco nel suo primo intervento, senza regole non è possibile, però c'è un punto di partenza che ci possiamo dare per aumentare o sviluppare la creatività degli asset regolamentari molto stretti, sono troppi, partiamo dai valori. Allora se noi standardizziamo, ma semplicemente dicendo nelle organizzazioni quali sono i valori sotto i quali l'organizzazione non opera, perché non è profittevole non dal punto di vista solo dell'economicità dei beni o dei servizi che si producono, se ci riferiamo a un'azienda, in qualche modo partiamo da uno zoccolo importante, un po' anche come sgombrare la nostra mente da incrostazioni, come faceva riferimento l'amico Gunnella. Sgompriamo un po' il campo dal fatto che in qualche modo il manager deve avere le ricette e quindi non si confronta, è un po' come il medico di famiglia, c'è questo problema, troviamo subito dal prontuario la ricetta e scriviamo. Non è così, noi oggi abbiamo la possibilità di ampliare la nostra cassetta degli attrezzi, ma non abbiamo, dobbiamo ancora acquisire la capacità di utilizzare anche in contesti similari, attrezzi completamente diversi e non tanto calati dall'alto, quanto invece in logica bottom up. Quindi c'è il problema, la soluzione, benissimo, lo si affida al gruppo, naturalmente con la logica di definizione di valori, di base che sono in fondo all'organizzazione, in qualche modo viene fuori che condividono un percorso, a cominciare da chi è leader, un percorso in comune, perché lo hanno vissuto e lo vogliono in qualche modo loro. Io sono, non pensiamo al profitto come una logica che in qualche modo ingabbia anche i sistemi dell'organizzazione, è vero che nella maggior parte, lo dicevi tu, purtroppo tutto è piegato al profitto dell'organizzazione aziendale, ma ce lo diciamo chiaramente, guai se non ci fosse, per una questione materiale, ce ne riusciremo tutti a vivere. Io immagino, quando si pensa allo sciopero, se il 25% degli industriali e imprenditori italiani, tutti insieme in una determinata mattina, decidono di incrociare le braccia, ahimè non basterebbero dieci scioperi generali degli operai, perché questo è importante, per dire non ce la fa il Paese. Allora il profitto è un elemento forte, ma non deve piegare assolutamente le logiche organizzative. Allora è meglio forse trovare l'equilibrio della profittabilità dei propri prodotti, dei propri servizi, sapendo che c'è un'organizzazione che, pur facendo profitto, ha al centro l'uomo e non l'azienda. La domanda che mi sono fatta, che mi faccio da ieri è, in realtà noi come formatori cosa possiamo fare? Perché appunto attraverso le vostre testimonianze, comunque le vostre esperienze più che altro, emerge comunque la necessità di un cambiamento, che tutti constatiamo in realtà, ma nei confronti del quale forse non abbiamo strumenti adeguati in questo momento. Ovviamente, non tanto ovviamente, ma credo moltissimo nella formazione, quindi forse la potremmo chiamare anche in un altro modo, magari invece che formazione la potremmo chiamare esperienza condivisa con altre persone. Resta il fatto che per poter poi gestire questo cambiamento, forse abbiamo la necessità, non tanto di condividere dei valori di fondo, che mi sembrano comunque sempre, diciamo, così calati dall'alto, ma forse potrebbe essere utile raccogliere i valori di tutti, e quindi accoglierli in un nuovo valore, tutto sommato. Credo moltissimo nell'esperienza formativa, perché appunto forse faccio parte di quella categoria, diciamo, di persone che non fa della formazione una somministrazione e basta, quindi non fa della formazione semplicemente una pillola che viene comunque data per guarire. Faccio parte un po' di un gruppo di carissimi colleghi con i quali cerchiamo sempre di tenere presente bene un solo obiettivo, cioè quello di dare autonomia alle persone. Quindi non mi interessa di appunto fare formazione oppure condividere esperienze formative con altri per risolvere un problema. Il mio obiettivo deve essere quello di fornire metodi e strumenti e quindi dargli autonomia. Ovviamente, diciamo, da questo punto di vista non sono un buon commerciale, però sono un disastro, però credo, ecco, a proposito di soddisfazione poi lavorativa, anche noi misuriamo la nostra soddisfazione lavorativa e quello che torna, diciamo, il valore che torna indietro da un'esperienza del genere e quindi dall'autonomia che tu riesci a dare in maniera semplice, in maniera onesta, e qui mi tornano in mente un po' tutte le parole anche che sono emerse prima, quindi con onore, con responsabilità, con consapevolezza. Quindi quando si dà il proprio sapere e le proprie conoscenze in questa maniera, ciò che torna indietro ha sicuramente un valore molto più alto, quindi è un arricchimento comunque, soprattutto per me, soprattutto per me come professionista. Quindi quale potrebbe essere, volendo cominciare a pensare un po' ad un qualcosa che ci porta ad essere propositivi, quindi non a cercare soluzioni, ma volendo cercare comunque una conclusione, andando verso una specie di conclusione, perdonami questo giro di parole, mi viene in mente che forse possiamo ripensarci nell'ambito di una nuova formazione e quindi in grado anche di gestire questo cambiamento. Perché se noi continuiamo ad intervenire nelle realtà organizzative, ovviamente è un'autocritica, se continuiamo ad intervenire nelle realtà organizzative con i metodi classici, ad esempio le metodologie attive oggi sono già passate, eppure ci sono delle realtà organizzative che continuano ad utilizzare i metodi tradizionali, quindi dobbiamo fare ogni giorno i conti con che cosa? Con realtà completamente diverse fra di loro ed è anche giusto che sia così. forse ci possiamo ridefinire come generatori noi stessi di valore, quindi magari ripartire un po' da questo concetto e cercare in qualche modo di ridefinirci in termini professionali e di conseguenza in termini di professionalità che lavorano nelle realtà organizzative, che ovviamente hanno altre necessità in questo momento. Un'associazione, un'azienda deve far profitto, altrimenti è un disastro un po' per tutti fondamentalmente, la pagnotta a casa bisogna portarla e questo lo so bene, però c'è tutta una vita, c'è un sistema vivente dal punto iniziale fino alla fase di profitto che francamente non si può lasciare così in sospeso, come per dire, vabbè non esiste l'utile e l'importante la marginalità, ma chi è che ti permette di fare marginalità se non le persone? È vero, Toyota non è completamente lean, però almeno forse un piccolo valore in più alle persone l'ha dato e ribadisco all'interno di una logica associativa è molto più semplice vedere certe cose, perché? Perché sono lì per passione, perché ci credono, perché vogliono farlo, perché vogliono crescere, perché si dà un momento per la crescita, perché non poter replicare alcune cose all'interno di un'organizzazione, ma se l'ottica è quella, azienda, uguale, utile, chiaramente il contributo delle persone, il contributo delle relazioni è una visione del sistema vivente che possa in realtà migliorare quello che è l'utile finale, come si fa ad avere? C'è anche un altro concetto, francamente, che mi ha lasciato un po' così, diciamo così, bocca aperta, il collaboratore deve essere portato per mano, perché? Cioè, il collaboratore deve essere portato per mano da chi? Dal referente, da io riferimento? È vero, deve essere fatto crescere, ma dobbiamo crescere assieme, perché se io ho una collaborazione o comunque una relazione con un'altra persona o con un gruppo di persone, io posso essere riconosciuto come leader, posso essere anche più bravo, n anni di esperienza, ma questo non significa che io non possa crescere dagli altri, possiamo tranquillamente crescere assieme, cioè sempre pronti a essere delle spugne fondamentalmente, recettivi, nei confronti di quella che è la relazione. così, do spazio a quello che è la creatività, cioè, non è perché una persona è uno sviluppatore della Madonna, significa che a vita dovrà fare lo sviluppatore, perché magari ha delle qualità nella creatività, per la parte del marketing, nella creatività di un nuovo modo, approccio di gestione che porti ad un miglioramento. Perché non vederlo? Quindi, ripeto, in una vita, cioè un'associazione no profit è più semplice, semplicemente perché c'è del rischio perché ho voglia fondamentalmente. Io lavoro perché mi piace il lavoro, mi deve piacere, però io lavoro anche per portare a casa la pagnotta e se non mi piace però la pagnotta a casa devo portarla. Dipende dalle situazioni in cui ci si trova fondamentalmente.